Riprendo le trasmissioni poco più in là di Fucecchio, insomma l'aprazione abbastanza più in là che ieri ci ha fatto penare, dopo 4 giorni di vuoto video per causa della mancanza di SD, il tote non me la voleva passare, siamo ormai vicini a Pisa, la barba è cresciuta, ci siamo assufati le vesciche, ma siamo vicini alla meta, molto vicini. Ce l'abbiamo fatta?